un altro sacco di impulsi eeeh sono in seguito e intanto mori comunque con colpa eh infatti cosa va a dire fighissimo da sottotitore io con le costrazioni di minecraft porco di giuda il con... poi ci faranno i video 10.000 gente eeeh guardate io ad esempio eeeh è scommo sta capoccia anzi sono già registrato eeeh 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 Dai! No! Sì! No! Mamma mia!